ciao ragazzi cambiata postazione la mia stanza alla stanza di antonino andiamo ad unboxare un chart sia perché lì sotto c'è troppo caldo ragazzi sia perché mi veniva voglia di farla qui lo sapete vi ho detto questo video del one pietro di un domo uscito dal binario guardiamo meglio così una sorpresa papapapa bomba bellissima come poter possiamo vedere un tipo di diritto una cosa così non so cosa si dimmi di se va l'auto per lo dota non con il mondo con molti ciò che non sono un certo edo 4 come dire semplice gioco semplice copertina un gioco che dà tanta e tanto tanto bellezza si ha tanta bellezza questo gioco di grafica e tutto comunque preordinato sega master system portatile noi ci vediamo in un prossimo video scarico questi vociam questi codici sono meno rubate sto scherzando ragazzi neanche si vedevano comunque noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi